In un auditorio romano Marazza illustra il significato della catena della felicità, plebiscito di soccorsi dei radioascoltatori ai figli dei caduti sul lavoro. E' questa, dice il presidente della RAI Ridomi, una delle più belle pagine della radiofonia. E il direttore generale Sernesi riassume il rapido propagarsi della catena, da Natale a questo giorno, in cui il professor Giacone dell'Ennaoli può, a nome dei suoi assistiti, ringraziare i sottoscrittori. Cantico di gratitudine e anche il coro di queste rappresentanti dei beneficiati, le dirige la signora Cortiglioni. Finale davvero a sorpresa, perché l'assegno è niente meno che di 127 milioni. Saranno destinati alla costruzione di tre grandi asili scuola, a Iglesias, a Comacchio e nella valle di Offalto. Grazie.